Gli evangelizzatori non siano imprenditori o arrampicatori, lo ha detto questa mattina Papa Francesco nell'Omelia della Messa, che ha celebrato nella cappella della Casa Santa Marta. Il Pontefice si è soffermato sulle tre dimensioni dell'evangelizzazione, annuncio, servizio e gratuità. Papa Francesco accetta le rinunce di tre vescovi cileni. Si tratta dell'arcivescovo di Puerto Montt, Monsignor Cristian Caro Cordero, e del vescovo di Valparaiso, Monsignor Gonzalo Duarte García de Cortázar, prossimi 75 anni, e del vescovo di Osorno, Monsignor Juan Barros Madrid. I 31 vescovi cileni avevano presentato in blocco al Papa la rinuncia al loro incarico dopo i casi di pedofilia che avevano coinvolto la Chiesa locale. Il Papa ieri all'Angelus, le false accuse per invidia sono veleno mortale. Dio ci liberi dalla tentazione di distruggere con malizia la reputazione dell'altro addetto, poi Francesco ha aggiunto che la nuova famiglia di Cristo è basata sul suo amore che ci unisce tra noi. Un'alleanza per affrontare le due grandi fragilità del mondo, i poveri e l'ambiente, e la richiesta di Papa Francesco e partecipanti all'incontro sulla transizione energetica e della cura della casa comune ricevuti in Vaticano. Serve l'energia, ma non a costo di distruggere la civiltà, ha detto il Papa. Mai deve cessare il ricordo dell'atroce violenza della Shoah, dell'indicibile dolore e dello sterminio di un popolo. Così Papa Francesco, in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, in occasione del concerto presso la Filarmonica di Berlino per il quarantesimo anniversario della presenza del cammino neocatecumenale nella capitale tedesca. L'annuncio, il servizio e la gratuità sono le tre dimensioni dell'evangelizzazione che Papa Francesco ricorda nell'Omelia della Missa celebrata a Santa Marta. Partendo dalle letture del giorno, il Pontefice chiarisce che è lo Spirito Santo il protagonista dell'annuncio, che non rappresenta una semplice predica, ma un moto dinamico capace di cambiare i cuori. Parimenti importanti sono la gratuità e il servizio, offerto anche nelle piccole cose. Sbagliata, infatti, è la presunzione di voler essere serviti dopo aver fatto carriera nella Chiesa o nella società. Non è un atteggiamento imprenditoriale quello che Gesù ci manda a fare, con un atteggiamento imprenditoriale, no. È con lo Spirito Santo. Questo è il coraggio, il vero coraggio della medializzazione. Non è una testardaggine umana così, no. È lo Spirito che ci dà il coraggio e ti porta avanti. Il Papa ha accettato oggi la rinuncia di tre vescovi cileni che avevano presentato le dimissioni dopo i casi di pedofilia in Cile e ha nominato altrettanti amministratori apostolici alla guida delle diocesi di Osorno, Puerto Montt e Valparaiso. A darne notizie oggi la sala stampa della Santa Sede. Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Puerto Montt, presentata da Monsignor Cristian Caro Cordero e ha nominato amministratore apostolico padre Riccardo Basilio Morales Galindo, provinciale dei Mercedari in Cile. Il Papa ha accettato inoltre la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Valparaiso, presentata da Monsignor Gonzalo Duarte Garcia de Cortaz e ha nominato amministratore apostolico Monsignor Pedro Mario Ossandon Bulievich, vescovo ausiliare di Santiago del Cile. Francesco infine ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Osorno, presentata da Monsignor Juan de la Cruz Barros Madrid e ha nominato amministratore apostolico Monsignor Jorge Enric Concio Caioqueo, vescovo ausiliare di Santiago del Cile. Quello di oggi è il primo provvedimento messo in atto dal Papa, dopo i quattro incontri in Vaticano con i 34 vescovi cileni, al termine del quale i presuli avevano rimesso in blocco nelle sue mani la rinuncia al loro incarico dopo i casi di pedofilia di cui sono stati accusati i sacerdoti cileni. Ha avuto inizio questa mattina la presenza di Papa Francesco la venticinquesima riunione del Consiglio dei Cardinali. I lavori proseguiranno fino a mercoledì 13 giugno. L'ultimo degli incontri si era svolto tra il 23 e il 25 aprile. In quelle circostanze è stato comunicato dalla Sala Stampa Vaticana che gran parte dei lavori era stata dedicata alla rilettura della bozza della nuova Costituzione Apostolica della Curia Romana. La malizia con cui in modo premeditato si vuole distruggere la buona fama dell'altro è veleno mortale. Lo ha detto il Papa durante l'Angelus di ieri, al quale, secondo la Gendarmeria Vaticana, hanno partecipato 20.000 persone. Infatti può capitare che una forte invidia per la bontà o per le opere buone di una persona possa spingere ad accusarla falsamente. Qui c'è un vero belleno mortale. La malizia con cui in modo premeditato si vuole distruggere la buona fama dell'altro. Dal Papa l'invito a fare l'esame di coscienza anche su questo aspetto. E se esaminando la nostra coscienza ci accorciamo che questa erva cattiva sta germogliando dentro di noi, andiamo subito a confessarlo nel sacramento della penitenza, prima che si sviluppi e produca i suoi effetti malvagi, che sono inguaribili. Poi il monito di Francesco. Siate attenti voi, siate attenti, perché questo atteggiamento distrugge le famiglie, le amicizie, le comunità e perfino la società. Il Papa si è soffermato anche sull'incomprensione dei suoi familiari verso Gesù. Alloro la sua nuova vita itinerante sembrava una pazzia, detto Francesco. Gesù ha formato una nuova famiglia, non più basata sui legami naturali, ma sulla fede in Lui, sul Suo amore che ci accoglie e ci unisce tra noi, nello Spirito Santo. Tutti coloro che accolgono la parola di Gesù sono figli di Dio, fratelli tra di loro. Accogliere la parola di Gesù ci fa fratelli fra noi, ci fa la famiglia di Gesù. Sparlare degli altri, distruggere la fama degli altri, ci fa dalla famiglia del diavolo. Desidero nuovamente far giungere all'amato popolo coreano un particolare pensiero nell'amicizia e nella preghiera. I colloqui che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo che assicuri un futuro di pace per la peninsola coreana e per il mondo intero. Denuncia che un miliardo di persone non ha accesso all'elettricità, ribadisce che serve l'energia, ma non a costo di mettere in serio pericolo l'esistenza della nostra e delle altre specie di esseri viventi sulla Terra. È il monito di Papa Francesco durante l'udienza sabato scorso in Vaticano con i partecipanti al simposio per i dirigenti delle principali imprese del settore petrolifero, del gas naturale e di altre attività imprenditoriali collegate all'energia. La sfida indicata dal Papa è quella di riuscire a garantire l'enorme quantità di energia necessaria per tutti con modalità di sfruttamento delle risorse che evitino di produrre squilibri ambientali tali da causare un processo di degrado e inquinamento. La questione energetica è diventata perciò una delle principali sfide teoriche e pratiche per la comunità internazionale. Da come verrà gestita dipenderà la qualità della vita e se i conflitti presenti in diverse aree del pianeta troveranno più facile soluzione oppure se essi, a causa dei profondi squilibri ambientali e della penuria di energia, troveranno un nuovo combustibile per alimentarsi bruciando stabilità sociale e vite umane. L'invito del Papa è quello di creare una nuova leadership, un'alleanza capace di incidere in modo duraturo. Mai deve cessare il ricordo dell'atroce violenza, dell'indicibile dolore e dello sterminio di un popolo è quanto si legge nel messaggio inviato da Papa Francesco tramite il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin all'Arcivescovo di Berlino in occasione del concerto alla Filarmonica per il quarantesimo anniversario del cammino neocatecumenale. La Shoah per il Papa deve essere un monito costante per tutti noi a un impegno di riconciliazione, di reciproca comprensione e di amore nei confronti dei fratelli maggiori, gli ebrei, e al contempo ad una vita dedita a favore dei sofferenti, degli indigenti e di tutti coloro che dal profondo anelano alla salvezza. Salvezza 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 cultura io non devo essere sradicato cioè senza radici e per questo ricordare la scuola il maestro sempre nella vita ci aiuterà a mantenere le radici per dare un uomo buono divenuto santo un vero ponte fra cielo e terra così il segretario di stato vaticano il cardinale pietro parolin ha ricordato giovanni ventitresimo nell'omelia che ha pronunciato sabato a sotto il monte durante la messa che ha concluso la peregrinazio dell'urna con le spoglie di papa roncalli un evento di grazia che ha registrato una straordinaria partecipazione di fedeli ha detto il cardinale ricordando papa roncalli il cardinale parolin ha affermato che l'ecumenismo divenne per lui una necessità per mantenersi fedele al signore nell'azione quotidiana egli era ben consapevole della complessità e difficoltà del percorso volto a ristabilire la piena comunione sapendo che i tempi e i modi erano riservati alla provvidenza era certo però che occorresse iniziare un nuovo capitolo fatto di inedite reciproche premure di gesti simbolici e di atti fraterni oggi non abbiamo ancora raggiunto l'unità visibile tra i cristiani tuttavia quanta strada è stata compiuta quanti ostacoli sono stati tolti dal sentiero quanti malintesi sono stati dissolti l'ecumenismo della carità come la reciproca conoscenza e frequentazione ci fa ormai vedere anche le asperità del cammino in un modo del tutto nuovo e certamente una considerevole parte del merito lo si deve al vostro concittadino a papa giovanni al suo sereno coraggio alla sua capacità di individuare vie di autentico dialogo che promuovessero l'unità infine il cardinale parolin ha presentato giovanni ventitresimo come fattore di riconciliazione tra le nazioni in un mondo minacciato dalle armi di distruzione di masse dall'acuta tensione della guerra fredda tanto da essere efficace operatore di pace per il mondo intero sicuramente molta devozione speranza attesa per questo evento storico papa è stato alla storia di sotto il monte ha fatto tanto ha lasciato un segno tangibile quando senti la voce ti avvolge proprio è lui tra noi volontari evidentemente è molto sentito questo evento soprattutto perché i volontari sono principalmente di sotto il monte è una cosa secondo me che coinvolge proprio ed è bello comunque fare qualcosa tutti insieme per una cosa che sentiamo tutti siamo qua per dare questo contributo di sostegno e di collaborazione a tutta la gente che verrà a visitare il salto papa tutti l'hanno chiamato il papa buono ma il buono non significa semplicemente un buonaccione perché a lui era anche un buonaccione quando lo si vedeva parlava incontrava la gente buono perché è santo e la santità attira anche quest'oggi credo sicuramente per la sua bontà e per la testimonianza che ha lasciato a Bergamo ma anche tutto il mondo avendo aperto il la chiesa un po' tutti infatti abbiamo visto l'annuncio del concilio cosa ha fatto a stravolto oggi politicamente direbbe arrottamato la chiesa sicuramente una figura molto carismatica che la definizione antica del papa buono è ancora di estrema validità credo che c'entra il papa della della gente comune proprio tanto umili tanto amato sentiva parlava era una persona comune di noi proprio molto emozionante io credo che ci inviterebbe a guardare dove lui ha guardato cioè di continuare a credere che il Vangelo sia sia la novità sia la cosa che rende le persone giovani che ti mantiene davvero nel presente ti evita di cadere in un passato che non c'è più o di credere che il futuro sia un utopia il Vangelo è il buon presente di Dio non guardare la condizione in cui ti trovi l'importante è che ti metti nella condizione di fare un passo in avanti di pensare alle cose più genuine la famiglia che sono le cose che alla fine ti rendono più felice di cercare sempre quello che ci unisce non quello che ci divide emana sempre una bella pace veramente una bella aria da respirare c'è proprio un clima familiare di amicizia un clima di grande entusiasmo e di profonda fede ha lasciato stupito tutti almeno io sapevo che Papa Giovanni era molto amato molto conosciuto ma in questi giorni in queste ore è impressionante vedere quanta gente quante persone quanti giovani quanti ammalati si stanno avvicinando a lui è davvero un clima di grande sorpresa il clima è stupendo il clima di grandi emozioni e questo è il significato che ci sono cose fatte dal cuore noi cerchiamo di essere proprio di aiuto e la sensibilità purtroppo ci gioca anche questo è in tutti noi la madonna ci dice non perdere mai la fiducia in ogni evento in ogni situazione sappi vedere il bene che si fa strada e sta trionfando proprio con fiducia e audacia in mezzo a tante difficoltà e fatiche 150 anni fa Don Bosco portava a compimento la costruzione di questa basilica è l'invito rivolto ai fedeli da Monsignor Renato Boccardo arcivescovo di Spoleto Norcia nell'Omelia della Messa che ha celebrato sabato nella basilica dedicata a Maria Ausiliatrice Valdocco nel 150esimo anniversario di consacrazione il presule ha ricordato le generazioni che qui si sono succedute nella devozione a Maria aiuto dei cristiani riusciamo appena ad immaginare quante gioie e dolori quante angosce e speranze sono state vissute e sperimentate ai piedi della Vergine con la preghiera a lei con il suo nome sulle labbra e la sua invocazione nel cuore quanti hanno trovato in lei forza e coraggio per andare avanti A celebrare la Messa è stato l'arcivescovo di Spoleto Norcia perché quella dioce si custodisce un'immagine mariana che ha come titolo aiuto dei cristiani immagine che ha ispirato San Giovanni Bosco a dedicare la basilica a Maria Ausiliatrice ricordando l'esortazione della Madonna venerata a Spoleto si buono, l'arcivescovo ha presentato la bontà come un valore trascurato nei rapporti quotidiani troppo spesso improntati alla competizione e all'aggressività vediamo gli uomini sempre più impegnati a desiderare con voracità il potere, la ricchezza, il successo da ottenere in qualsiasi modo eppure nella nostra coscienza avvertiamo che questo modo di vivere ha sbagliato sentiamo che questo stile è disumano, inautentico, faticoso ci crea disagio e sofferenza perché portiamo dentro di noi, incancellabile l'aspirazione alla bontà, alla fraternità, alla condivisione sogniamo un mondo più amorevole vogliamo più dolcezza, più buon cuore, più generosità, più giustizia desideriamo poter essere di aiuto agli altri e poter chiedere aiuto quando ne abbiamo bisogno fare finalmente qualcosa senza calcolo anche contro il nostro interesse immediato l'osservatore romano di lunedì martedì 11-12 giugno un futuro di pace per la Corea e per il mondo all'Angelus l'appello del Pontefice in vista dei colloqui di Singapore per invertire la rotta il vertice tra Trump e Kim la Spagna accoglie i migranti dell'Aquarius un duro scontro tra Italia e Malta ha costretto la nave con oltre 600 persone a bordo a vagare nel Mediterraneo No No Autore dei sovrapposti